ciao persone meravigliose di questo canale io mi chiamo mira e questo è il mio canale bene raga prima di tutto sia la prima volta che sei qua in questo canale e anche se non è la prima volta ma non sei iscritto è scriviti nei canali se non è un canale youtube raga non è una cosa difficile di farle solo avere la mail non è che hai bisogno di mettere i video avere la tua mail e entrare nei youtube con la mail quindi non è una cosa dell'altro mondo fare un potete iscriverti nel canale e quindi anche aiutate tanto le persone che fanno i video perché nel senso è sempre potete commentare e poi è una cosa bella magari uno fa un video e la gente guarda poi non si iscrive poi rimane male bene torniamo al discorso prima di tutto magari faccio qualche urlo perché c'è il cane qua che è un cucciolo quindi lui sta qua giocando con i miei piedi a volte sbaglia con giochetti morde il mio dito quindi si fa qualche urletto qua sarà per questo motivo bene raga il video di oggi è in quel percorso che vi ho detto già vi ho parlato in un video precedenti che è sul minimalismo io non io c'è un pensiero diverso al minimalismo ci sono persone che buttano tutta la casa e che si trasferiscono in un cubicolo così per me che sono in questo percorso da tanto tempo io ho avuto anche un po di ricaduta non è una ricaduta nel senso più o meno di una ricaduta nel senso ho comprato cose che avevo detto di non comprare però queste cose qua sono riuscita a proverò a non comprare proverò non sto riuscendo di spiegherò come sto facendo in tutte queste con tutte queste cose no bene per me il minimalismo è non comprare le cose che non hai bisogno o che ne hai tantissime e che non le usi tutte quelle se tu è una cosa che tu le usi che tu le utilizzi tipo diciamo i prodotti di capelli io mi utilizzo tutti i miei prodotti di capelli tutti io c'ho tutto un cronogramma programma di usarli tutti quindi li utilizzo tutti quando ho bisogno di comprare quindi sono cose che continuo a comprare perché sono cose che io continuo a utilizzare e finisco tutti i mesi finiscono delle cose magari sia uno che mi piace tantissimo e sta per finire lo lascio lì per un po' uso altri e poi quando lo so che ho bisogno che ho che non so tra due mesi avrò i soldi per ricomprarlo e io vado lì lo uso magari uno che lo devo utilizzare lo voglio utilizzare per i capelli che io sono appassionata di prodotti di trattamenti di capelli di piccolo dei capelli perché io non c'ho i capelli bene ragazzi ho i capelli tanto trattati per i miei capelli se io vi faccio vedere poi una foto di come erano prima di solo trattando normalmente come le persone normale faceva paura bene tornando a un video che sono già tre minuti e io farlo un papagallo e non arrivo dove devo bene i video di oggi è cinque cose che non compro più quando dico che non compro più non vuoi dire che non comprerò mai più perché ho visto dei video le ragazze che dico io non comprerò mai più queste cose però sono cose che sempre in tutta la mia vita li utilizzerò quindi prima o poi li comprerò quando finirò tutte quelle che ce l'ho la prima cosa di tutto sono bene ma grava bene sì io ce l'ho più di 500 penne facevo una collezione immensa però non riuscivo più a usare adesso va beh prima è anche nel senso adesso anche lo studio e tutto però non ho bisogno di tutto se io ce l'ho cinque penne di colori diversi io ce ne ho tantissime vabbè a me piace disegnare disegno malissimo però disegno magari una cosa un po' è un disegno moderno diciamo quello che ho fatto guardando i cani quindi mi piace disegnare mi piace dipingere mi piace diciamo più tempo da farlo praticamente però mi piace però nel senso ho queste pene sono è una delle cose che io non compro più da più queste qua io già non compro più dopo descrivendo non compro più da più di due anni ce n'è ancora una valanga e quindi penne è una delle cose che io mi sono promessa di noi spendere più poi ho anche pene nel senso che hanno costato in brasilia costava ma magari non costano tanto però erano pene custode questo qua è rosa mi piace tantissimo anche il inchiostro è rosa seconda cosa che io non compro più adesso entriamo nella parte dei prodotti di bellezza che è i rossetti io ce l'ho a vita che adesso avrò 30 40 rossetti io non compro più rossetti da da quando sono arrivato qua in italia farà quasi che non compro più magari tu dici ah ma qualche rossetto sarà scaduto ragazzi se l'odore è buono se le cose io non vado a buttare 40 rossetti che io li uso li uso però non li uso tutti non riesco ci sono quelli che non usavo ho visto che c'erano di quelle rossetti che non usavo qui adesso faccio un giro dei rossetti nei sensi prova a usarli tutti per almeno un giorno che io se io lo devo è fare dei glutei e io non vado a buttare una cosa che non ho mai usato perché mi dispiace tantissimo quindi i rossetti è una cosa io li compravo continuavo a comprare a comprare a comprare a comprare a comprare a volte a comprare colore che già c'è nero quindi i rossetti mi sono promessa da non comprarli più e non lo sto comprando più rossette già da un bel po' e per non dire che non sto comprando io ho comprato è uno di quei box da pinkie pandie è venuto un rossetto ma non è che io se io potevo scegliere togge quei rossetti li avevo tolti ma quello lì puoi dire regalerò a qualcuno perché ce l'ho già quel colore quindi neanche lo considero considero come un regalo a un'altra persona lo considero come mio poi un'altra cosa che io non comprerò più è fino a che rimango con uno e devo comprare solo un altro per utilizzare vedi che neanche lo sto usando non sto scendicata quindi io non vedo perché praticamente farlo adesso vabbè questa settimana lo farò lunghi perché fa un po' di tempo che non li faccio che sono i smalti io ce l'ho avrò poi vi faccio vedere se volete un video che vi faccio vedere non è che vado a fare vedere uno per uno perché ce l'ho già un video su tutti i miei rossetti magari dopo di quei video oppure ho comprato altri però è dopo che ho comprato quegli altri che non ho comprato ma sono vecchi due anni fa più di due anni fa e magari faccio vedere tutti i miei smalti sono tutti smalti brasiliani ma da quando sono arrivata qua io non compro più smalti perché io mi ricordo che appena arrivata un mese dopo che stavo guardando e mettendo su un carrello sai di sito internet un sacco di smalti che sto comprando questi c'è un sacco di smalti qua a casa mi sono pure mette in testa di non dipingere l'unghia per un po' di tempo perché io volevo mettermi in testa che non ho bisogno di tutti quegli smalti quindi ho passato un tempo adesso tornerò a dipingere precisamente perché li devo smaltire quelli smalti lì però fino a che non finisco tutti quegli smalti non comprerò più un altro non è che non comprerò mai più però fino a che non finisco quelli lì non comprerò più un altro smalto quindi smalto è un'altra cosa che io non compro avrò non so più di 20 smalti ne ho bisogno di 20 smalti io non lavoro più non lavoro più non lavoro con quelli da tanto tempo io ho fatto questo di un ho lavorato anche e facendo un in brasilia non quelle non quelle come fate voi qua in sempre anche con l'essenza poi loro cambiano i smalti usano i smalti è una cosa che mi piace non vuol dire di cambiare quindi fanno così non fanno quella permanente di colori di smalto quindi i smalti è un'altra cosa almeno non so se adesso ci sono qua sai che le cose cambiano quindi cani passando correndo per la casa così da solo non so se senti e quindi i smalti è un'altra cosa un'altra cosa che non compro più questo qua la fa impattire a tutti che sono i profumi io dall'estate dall'estate non è che non ho comprato l'ultimo profumo più di sei mesi mi sa io non compro più profumi da quello di perché mi era rotto uno che riscando che mi piaceva mi piace tanto e quello lì ho dovuto è comprare un altro profumo scusa scusate ragazzi sono fermata un attimino che ho dovuto pulire i bisogni dei cani quindi avevo comprato le scandal perché mi era rotto è uno dei profumi che mi piacciono quindi l'ho ricomprato però cosa ho fatto con il profumo io ce l'ho mi sa che 26 tra various fresh e profumi normale che magari per chi è un collezionista è poco perché chi fa collezione però per una persona normale è tanto io in brasilia di solito una persona c'è un profumo che è perché la noi nel senso abbiamo principalmente i nord esti abbiamo quella cosa lì che è sempre la temperatura quindi dobbiamo usare quello lì che ci piace chi riusciamo a usarli qua in italia io penso che una persona avere tre profumi sarebbe l'ideale che sarebbe una per la stazione primavera autunno che hanno più o meno la stessa temperatura e uno per l'inverno e uno per l'estate per me questo qua già è una quantità di profumo giusto io voglio scendere i miei profumi almeno diciamo massimo 5 quindi cosa sto facendo vabbè chi ce l'ho tre profumi che non li smaltirò mai che quelli lì io neanche li considero perché sono profumi di ricordi quindi per ricordare la mia mamma quando vede ce l'ho così lì però gli altri profumi io solo comprerò un profumo dopo che smaltisco tre poi smaltisco altri tre e posso comprare uno perché io ce l'ho dei profumi che li voglio perché sono dei profumi che mi piacciono gli odori però c'è un sacco di profumi lì che io l'ho comprato però non è che mi piacciono tanto cosa faccio lo uso per forza profumi mi metto perché non sono tra i miei preferiti compravo per compuzione come tutto e io prima di venire qua ce n'era un sacco io già ho smaltito un sacco e sto usando uno adesso adesso sto usando quelli che stanno per finire e quindi sto usando uno adesso che sta per finire e perché così lo smaltisco già qualcuno quindi dopo che smaltisco quelle tre posso comprare un altro poi continuo a fare così non lo so quando riuscirò a ridurre tanto però così già pian pianino si raduce e quei profumi e avrò una quantità di profumo di una persona normale per me il minimalismo per me è tornare alla normalità di una persona che non ha bisogno di tutte quelle cose io dico e magari per una persona minimale sarebbe avere un profumo però qua in Italia in Brasile riuscirei qua in Italia se io ho un profumo e a un estivo io lo uso d'inverno magari a uno perché di stato io non riesco a usare profumo che non sia quasi a nulla perché io vomito davvero vomito sia un profumo forte riesco a usare quel tipo di lavanda ma sai più infantile è possibile quel profumo di non deve essere più semplice per farmi non vomitare quindi quello profumo che io uso l'estate e uso l'estate e non si sento neanche perché ce l'ho provato e quelli invernali d'estate se io solo l'estate ma anche da lontano vomito quindi quelli li devo almeno diciamo io spero riuscire un giorno a avere tre o due uno non posso promettere però per me già quello lì già è essere minimale avere quella quantità solo di profumi se una persona ce l'è 20 se una persona ce ne riesce non è minimale lì se una persona ce l'è già una postazione con qualche profumino per me arriva perché non avere esagerazione di cose esagerazione per me che tu non riesci però già avere quella quantità lì già va bene un'altra cosa che io li compravo tantissimo e già sono riuscita a ridurre che io ce ne ero di fondotinta che sarebbe fondotinta io ce ne ero di fondotinta di continuavo a comprare 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 adesso sono riuscita a ridurre ce l'ho e ci sono quasi per finire questi quasi tutti tutti stanno per finire quindi poi dopo quello comprerò e avrò solo due che sarà due o tre di fondotinta che per me è giusto perché magari quando cambia il colore ti abbronzi e poi mescolare uno con l'altro e fare un colore così perché io d'estate riesco ad abbronzare tantissimo riesco a diventare scuri scuri scura e adesso d'inverno non sono quasi chiariti totali perché io passo tanto tempo per perdere l'abbronzatura rimano ancora più bianca tra virgolette che è che sono adesso però nel senso già ho aperto già un sacco quel colore più fondotinta che riesco a dare d'estate non riesco a usare di autunno e quel dopo non riesco a dare d'inverno quindi io li devo cambiare per il fatto di la sua donna e l'avrò della carnagione però avendo tre colore magari come non riesco ho anche due io posso riuscire a però devono essere la stessa madre la stessa marchio per riuscire a mescolare uno con l'altro senza che succeda una cosa strana e quindi io avrò già ho redotto di io prima di venire in Italia avevo 20 in Brasile ho regalato tutte quelle che non andavano con i miei colori non andavano davvero li ho regalati e poi venendo qua sono riuscita a spautire qualcuno adesso io ho 4 fondotinta se non mi sbaglio 4 fondotinta e quindi è una delle cose che io non mi comprerò più come compravo in esagerazione compro quando ne avrò bisogno perché io compravo anche senza aver bisogno tenevo 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 il cane impazzito corre correndo per la casa come un pazzo le volte i cani anche hanno questa vabbè è un cucciolo Dio santo correndo quando vede che è dietro è come un pazzo e poi we don't know tirando i visiti perché vuoi giocare dici ma ma che fai lì a parlare con noi gioca con me sei pazzo e quindi raga il fondotinta è una delle altre cose che io non compro più in esagerazione vabbè io davvero ero esagerata con un sacco di cose e cambiare questo è andare da un un dall'altro bene raga io spero che vi sia piaciuto questo video vi do un bacio magari spero di cambiare il pensiero di qualcuno anche e vi ho detto come più o meno come faccio queste cose non è senso io per comprare un altro fondotinta devo finire quelli che ce l'ho perché se tu dici ah mamma questo colore non va bene a me e però li tieni lì nella tua collezione che è collezionista e quel colore non va bene a te l'ha comprato sbagliato o tu provi a usare mescolando con un altro o tu regali un'altra persona e poi dobbiamo stare attenti e diciamo ma io ce l'ho già altre fondotinta che sono della colorazione che ho adesso però voglio tanto quello lì ma io li voglio ma quando li faccio non li compro io dico vabbè li uso questo qua quando finisco compro quello che voglio ma mi piace anche questo lo voglio tutti e due dobbiamo scegliere non è che possiamo avere lì che poi dobbiamo buttare queste cose e c'è una cosa che mi fa un male cane principalmente quando la gente butta le cose quando uno prende il regalo queste cose per me è una cosa buona perché è un ciclo di restitaggio di make up di vestiti di queste cose però se una persona butta una cosa perché c'è una data di validità per me ragazzi se una cosa pigmenta ancora nel senso se una cosa non c'è un odore di vetto non ha cambiato per me è ancora dentro la data di validità anche se nella data nel tempo di 18 mesi o 24 mesi o 31 mesi se per me ancora quello lì sembra meno guardando che sta bene che non ha cambiato forma non ha cambiato niente io continuo a usare perché io sono un po' di vabbè sarò sbagliata sarò sbagliata ma io lo faccio così non le butto le cose non le butto non le butto se no davvero non sono davvero da buttarli odore vedo che è un po' appiccicoso queste cose o se ce l'hanno ufo le butto ma se non è così non le butto bene un bacione e spero che vi sia piaciuto questo video e alla prossima ciao ciao